we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daieee we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuderone allora ragazzi posizione del nuovo fort bite il numero 69 ragazzi molto facile per questa giornata il fort bite come c'è scritto si trova in un edificio maiale di pietra credo ragazzi che il maialozzo di pietra sia ovviamente quello presente alle spalle di approdo avventurato quindi ci proviamo a dirigere e vediamo di capire insieme dov'è la posizione corretta del foro secondo te dov'è amo davanti o dietro in mezzo in mezzo perfetto bello questo non l'ho mai visto il maialino maialozzo di pietra che bello proviamo a scendere vediamo un po' dove è il fort bite eccolo qua ragazzi fort bite numero 69 lo andiamo a prendere e anche per oggi ragazzi ce l'abbiamo fatta mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani poi in live alle 13 30 ciao